ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di beat questa è la puntata 152 e io sono come sempre francesco io ho una malattia anzi forse più di una ma quella di cui vi parlerò in questa puntata è l'acquisto compulsivo di cuffie a casa ho cuffie di ogni genere specie da attaccare con ogni modalità a qualsiasi dispositivo ho pensato quindi di fare questa puntata durante la quale sperando di non attaccarvela questa malattia vi racconto le differenze tecnologiche e di funzionamento così che se siete indecisi su quali prendere avete qualche parametro in più per ponderare la vostra scelta vi esorto a non fare come me e a comprarne solo un paio le cuffie per ascoltare la musica e le telefonate possono essere divise in più categorie in base alla forma e al tipo di connessione partiamo dalla connessione sul mercato potete trovare cuffie sostanzialmente di tre tipi diversi la cuffia analogica con il filo che ha il jack e si inserisce nell'apposito connettore questa cuffia esiste da sempre da quando andavo a casa della nonna c'erano queste cuffie con il connettore grande che si inserivano nel giradischi in questo caso l'elaborazione dell'audio che ormai adesso è tutta completamente in digitale vinili a parte viene fatta dal dispositivo di riproduzione l'audio viene amplificato per essere inviato alle cuffie e viene trasmesso con un segnale analogico sul cavo da qui arriva alle alle cuffie che lo fanno sentire nelle orecchie se il jack ha tre sezioni divise da due cerchi colorati sono cuffie stereo se le sezioni sono quattro allora c'è anche la funzionalità del microfono quelle a due sezioni non esistono più perché erano cuffie mono queste cuffie funzionano su ogni dispositivo che ha il jack per l'uscita cuffie quelle vecchissime e quelle nuovissime lo standard è sempre quello al massimo vi serve un adattatore per passare dal jack grande a quello piccolo la cuffia sempre con il filo ma digitale può essere usb se collegata al pc questo la vede come se fosse una scheda audio aggiuntiva e come tale la usa solitamente la porta usb la alimenta quindi non ha bisogno di batterie il pc manderà al chip interno delle cuffie le tracce audio in digitale e questo provvederà a elaborarlo convertirlo in analogico amplificarlo e mandarlo ai diffusori per far funzionare queste cuffie è necessario un pc con un con un driver quindi non funzioneranno sul vecchio giradischi della nonna anche perché inserire una usb in un jack audio è parecchio difficile mentre una usb in una ethernet provateci è facile le cuffie degli iphone che si collegano al telefono con la connessione lightning funzionano pressa poco nello stesso modo il telefono fornisce il segnale in digitale e nelle cuffie c'è un chip piccolissimo con un amplificatore che converte in analogico amplifica e manda agli auricolari il terzo metodo perde il filo aggiunge le batterie ricaricabili e si collega al dispositivo tramite bluetooth è ovvio che la sorgente della musica deve avere il bluetooth come un pc un telefono o l'automobile una volta fatto il pairing cioè collegate le cuffie al dispositivo queste quando verranno accese si collegheranno al dispositivo in pochi secondi e saranno pronte le cuffie bluetooth hanno alcune caratteristiche alle quali bisogna fare attenzione quando le si sceglie la prima sicuramente è la durata della batteria ovvio che più la cuffia è piccola e leggera meno durerà perché la batteria è più piccola la seconda se avete più dispositivi e quanti dispositivi in contemporanea può gestire le cuffie standard si possono abbinare a più dispositivi ma quello attivo è solo uno per volta ad esempio io giro mio malgrado con due telefoni quello privato è quello del lavoro posso abbinare lo stesso paio di cuffie ai due dispositivi ma lui sarà connesso a solo uno per volta se lo abbino a quello del lavoro e mi chiamano puntualmente su quello personale per fare una chiamata con le cuffie a quello personale devo andare nelle impostazioni del telefono e forzare la connessione che disconnetterà l'altro telefono un bel casino e non farò mai in tempo a prendere la telefonata ci sono cuffie che invece gestiscono due dispositivi insieme sembra magia ma in realtà ascolto la musica con spotify dal telefono personale mi arriva una chiamata sul telefono del lavoro la musica viene messa in pausa e posso fare la conversazione sul telefono del lavoro al termine la la musica continuerà lo fanno cuffie da 20 euro ma non lo fanno gli airpod le power beats e il bluetooth della fiat da 15.000 euro questa cosa devo essere sincero io non la capisco ci sono alcune cuffie che sono sia bluetooth che con il filo ho un paio di sony vh 8 800 vi metto ovviamente tutti i link nelle nelle note come sempre che funzionano alla grande con entrambi i sistemi la batteria viene consumata solo se collegate in bluetooth ancora una piccola nota la qualità dell'audio del microfono via bluetooth viene tagliata normalmente in frequenza anzi in digitale e in campionamento è la stessa cosa quindi se faccio una conversazione che sia telefonica o con uno dei sistemi di meeting usando le cuffie bluetooth l'interlocutore mi sentirà peggio rispetto alle classiche cuffie col filo che cosa vuol dire tagliare in frequenza piccola digressione di audio e fisica il suono si diffonde nell'aria con delle onde a una certa frequenza la nota la ad esempio è un'onda a 440 hertz il nostro orecchio sente da circa 20 hertz fino a una frequenza massima di circa 20 kilohertz invecchiando il massimo si abbassa a circa 16 kilohertz tutta la musica prodotta normalmente sta all'interno di questo range perché se no sarebbe inutile tirarla fuori perché nessuno la sentirebbe quando parliamo emettiamo delle onde a varie frequenze che quelle che ascoltate dalle casse mentre io sto parlando fin qui spero sia tutto facile sono stati fatti degli studi e si è capito che per lasciare intellegibile la parola non di qualità intellegibile basta mantenere le frequenze fino a 4 kilohertz a seguito di questi studi per risparmiare all'epoca la banda costava cara ed era difficile da trasmettere tutti i telefoni analogici trasmettevano su fili di rame le comunicazioni tagliate a 4 kilohertz quindi se parlando fosse uscita una qualche lettera un po più acuta le frequenze più alte non sarebbero passate dalla telefonata si capisce quel che si dice ma si perde buona parte del suono di contorno piccola nota dentro piccola la piccola nota le adsl hanno il filtro perché il traffico dati viene messo sullo stesso filo di quello telefonico ma su frequenze più altre alte il filtro divide la parte voce dalla parte dati tornando a noi i microfoni bluetooth rispettano lo standard telefonico nel senso che campionano a una frequenza più più bassa standard molti anni fa questa cosa serve per fare la conversazione in tempo reale senza lag le chiamate che ormai non hanno più questi limiti soprattutto se sono in videoconferenza usare il microfono bluetooth abbassa la qualità audio di chi parla chiusa la parentesi di fisica tra le cuffie bluetooth ci sono alcune distinzioni da fare perché le cose lineari e facili nella tecnologia pare che non piacciono a nessuno la cuffia ad archetto è facile ha un ricevitore un amplificatore stereo e i due diffusori le cuffie che hanno il filo che passa dietro alla alla nuca invece dell'archetto hanno più o meno la stessa tecnologia visto che è tutto più piccolo la batteria potrebbe durare qualche ora di meno poi ci sono le cuffie che stanno in una scatolina le aprite le mettete all'orecchio una o entrambe e le usate queste sono diverse in tutti i casi avete a che fare con tre batterie una nella scatolina e una in ogni in ogni cuffietta oltre ai due amplificatori anche qua uno in ogni cuffietta la batteria della scatolina ricarica le minuscole batterie negli auricolari questi si estraggono si usano e quando vengono rimessi nella confezione la micro batteria viene caricata un'altra volta le più vecchie hanno uno dei due auricolari che il master lui si collega al dispositivo e poi manda la musica al secondario le ultime dette true wireless hanno un ricevitore bluetooth in ogni cuffietta questi sono quindi indipendenti e possono essere usati uno l'altro o entrambi queste cuffie hanno un vantaggio bestiale rispetto alle altre non si deve gestire l'accensione apro la scatolina le indosso e sono collegate hanno anche il sensorino di presenza quindi sanno se sono nell'orecchio oppure no le altre se non hanno il bluetooth attivo comunque se sono spente vanno prima accese e magari non si fa in tempo a rispondere a una a una chiamata il secondo dettaglio di queste cuffie è un problema queste piccole batterie sono veramente piccole risentono della vecchiaia cioè dei cicli di carica e scarica ne risentono molto in fretta soprattutto se si usa spesso l'auricolare destro ad esempio per lunghe chiamate in breve tempo si arriverà che la durata della batteria di quella auricolare sarà inferiore al sinistro cosa assai antipatica quando si deve ascoltare musica ultima cosa le cuffie bluetooth sono senza fili e trasmettono onde radio se ascoltate la musica in aereo è bene che vi portiate un paio di cuffie col filo l'utilizzo di quelle bluetooth potrebbe essere vietato in ultimo è necessario comprendere in questo elenco che ci sono cuffie senza fili ma non sono bluetooth ad esempio le cuffie che si collegano alla televisione che permettono di ascoltare l'audio senza il lunghissimo filo sono in radiofrequenza con protocolli proprietari se ne avete di vecchie alcune possono essere ancora a infrarosso chiuso il capitolo del metodo di comunicazione passiamo alle dimensioni ma torniamo prima a parlare di fisica non sono un fisico perdonatemi per eventuali strafalcioni grazie abbiamo detto che la musica ha un range dinamico che va da 20 hertz a 20 kilohertz più la frequenza è bassa più noi percepiamo un suono basso più alta più un suono acuto le frequenze da emettere nell'aria arrivano in formato elettrico vanno convertite in vibrazione per essere spinte dentro l'aria questa cosa si fa con gli altoparlanti ne ho parlato nel lontanissimo episodio 16 una membrana vibra a una certa frequenza e questa frequenza viene emessa in aria in modo che arrivi al nostro timpano a seconda della frequenza questa membrana deve essere di una certa dimensione per le frequenze basse deve essere grande per quelle alte deve essere piccola anche perché se è troppo grande la sua inerzia non le permetterebbe di vibrare alla giusta velocità dei suoni più acuti nelle casse altoparlanti che avete a casa quelle lì grandi se ancora ce le avete e roba di appassionati questa cosa si fa con i woofer per i bassi i twitter per gli alti e il mid range per il resto delle frequenze il problema è che parliamo di diametri di decine di centimetri come si fa per le cuffie che sono di qualche millimetro ci si adatta per questo esistono diversi tipi di cuffia di diversi diametri il concetto è uno e non può cambiare la musica migliore si sente con le cuffie più più grandi soprattutto in dinamica del suono e la fisica e non si scappa quelle con il diametro maggiore sono definite over ear e coprono completamente all'orecchio appongiandosi quasi su quel che c'è intorno all'orecchio quindi alla vostra faccia più piccole e un po più portabili sono le on ear che si appoggiano sul padiglione poi ci sono gli auricolari che si inseriscono nel padigliore ma non tappano il condotto uditivo per concludere ci sono le cuffie in ear che si infilano nel condotto uditivo e lo isolano fisicamente dall'esterno con un gommino è finita così figurati assolutamente no tralascio tutta la parte di post elaborazione del suono che in certe cuffie fanno in modo che si possa sentire come se si fosse al cinema con una specie di magia ma mi soffermo su una cosa diventata ormai fondamentale la riduzione del rumore esistono cuffie da ormai più di dieci anni che permettono di ascoltare annullando o quasi i rumori dall'esterno per fare questo le cuffie devono avere una una batteria anche se hanno il filo il sistema funziona pressapoco così sempre roba di fisica siamo alla terza volta spero che abbiate ancora tanta pazienza partiamo dalla nota la di cui parlavamo prima 440 hertz un'onda sinusoidale con una certa ampiezza questa onda arriva al nostro orecchio che la traduce e ci fa sentire il suono se adesso emettiamo la stessa nota con la stessa frequenza e la stessa ampiezza ma con la forma d'onda invertita cioè quando l'onda originale è al massimo positivo quella che emettiamo noi è al massimo negativo succede una cosa strana e che cosa succede che la prima onda è annullata dalla seconda e non si sentirà nulla questo accade solo se l'onda invertita è in perfetto sincrono con quella da annullare capirete che tecnologicamente ci è voluto parecchio studio queste cuffie quindi hanno un microfono che sente quel che c'è fuori e lo replica all'interno della cuffia invertito questo annulla i rumori esterni sulla metro in treno anche in aereo anche in ufficio se c'è un open space molto rumoroso basta accendere le cuffie e indossarle come per magia si viene catapultati nel mondo del silenzio questa cosa funziona con le cuffie che coprono l'orecchio e con le cuffie in ear se l'orecchio non è isolato dal mondo esterno non può funzionare alcune di queste cuffie hanno un bottone che inverte nuovamente la forma d'onda e le rende di fatto trasparenti replicando quel che sentono fuori nell'orecchio un po' come fa un dispositivo per chi ha la funzionalità dell'orecchio non tanto buona la rimozione del rumore non è attiva sulle frequenze alte così si possono sentire ancora le sirene dei mezzi di emergenza i bambini che piangono il claxon delle auto e altre cose che sono a frequenze alte resta sempre il fatto che se si guida un qualunque mezzo comprese le bici e i monopattini le cuffie non vanno mai usate esistono anche le cuffie a conduzione ossa ma non le ho mai provate e vorrei evitare di dire fesserie quindi se mi capiterà di 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 provarle potrei fare una puntata aggiuntiva tutte le informazioni per contattarmi o partecipare al gruppo degli ascoltatori telegram nel podcast le trovate sul sito pillole di beat col punto prima dell'it nel gruppo telegram si chiacchiera di argomenti tecnici ogni ogni tanto ci si aiuta e spesso dalle domande ho tirato fuori delle puntate interessanti le note di questa puntata sono al link diretto pillole di beat col punto prima dell'it slash podcast slash 152 realizzare e distribuire un podcast al quale tutti possono accedere gratuitamente a comunque dei costi l'attrezzatura il software il dominio il servizio di streaming e così via se vi va di partecipare alla realizzazione in modo prettamente economico sul sito trovate i link per i vari metodi di pagamento che sono paypal e satis pay se donate più di 5 euro compilate anche il forum con i vostri dati e vi donate meno di 3 euro se possibile preferite satis pay paypal prende un'enormità di commissioni su cifre piccole se vi abbonate con almeno 5 euro al mese vi mando la tessera di abbonato a casa arriveranno contenuti specifici specifici per chi si abbona un altro modo per partecipare e diffondere questo podcast quindi dite ai vostri amici che lo ascoltate e invitateli a farlo anche loro magari scopriranno il mondo del podcast e se ne innamoreranno grazie ai donatori di questa settimana se invece volete sponsorizzare una puntata singola con un vostro prodotto sito o servizio alla pagina pidola di bit col punto primadelit slash sponsor trovate tutte le informazioni ultimo ma non meno importante se vi interessa se volete una consulenza tecnica da me fatturata trovate tutte le informazioni su iltucci.com slash consulenza il tip di oggi è più una collezione di pro e contro di varie cuffie che ho provato magari vi aiuta a non buttare via i vostri soldi la più versatile da tenere a casa è la sony di cui vi parlavo prima una cuffia quasi over ear con il filo e il bluetooth la uso collegata con il cavo audio che tra l'altro ha i connettori standard e quindi può essere sostituito con un cavetto qualunque dovesse mai rompersi collegata al microfono che uso per registrare il podcast oppure al controller della playstation si collega via bluetooth al pc o al mac oppure al telefono una buona qualità audio un'ottima durata delle batterie molto comoda sulle orecchie è scomodissima da portare in giro anche se al suo enorme sacchetto le magie le ottengo invece con un paio di cuffie Bose della serie QC che sta per quiet comfort hanno il sistema di riduzione del rumore e anche se sono di sei anni fa il sistema funziona alla grande e mi ha salvato da un bel mal di testa nel volo new york milano perché le ho comprate là audio di buona qualità molto comode sulle orecchie hanno la custodia per essere portate in giro non è piccolissima ma almeno è quasi piatta sono solo con il cavetto audio proprietario che ha il jack più piccolo e piegato maledetti senza batteria o con la batteria scarica non funzionano neanche il normale ascolto il caricabatterie e proprietario e non il classico usb adesso non conosco le ultime QC ma spero che siano evolute gli auricolari in-ear economici di Aoki sono piccoli leggeri e come dicevo economici costano meno di 20 euro si collegano a due dispositivi contemporaneamente e la qualità audio è discreta il bluetooth dura tranquillo tutto il giorno anche se si fanno molte telefonate e il fatto che siano magnetici e appesi al collo fa sì che siano sempre pronti all'uso quando arriva una telefonata come tutte le in-ear a me tendenzialmente cadono auricolari di tutt'altro livello audio nel senso che sono spettacolari sono i power beats io ho la versione 3 con l'archetto e il filo dietro al collo visti gli accordi fatti con apple se si fa il pairing su un dispositivo queste saranno collegabili in modo semplice e immediato a ogni altro dispositivo apple col vostro account ma ovviamente solo uno per volta perché costano 10 volte le cuffie di Aoki ma un solo dispositivo per volta che odio tenerli al collo senza la parte magnetica è impossibile quindi vanno bene solo se si esce con loro indossati e non si tolgono più se li mettete al collo vi cadono per terra averli pronti per rispondere a una telefonata è pressoché in inutile diciamo che se state ascoltando musica e vi arriva la telefonata sono 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 comodi ultimo paio che ho provato sono gli airpod quelli nella scatolina bianca di apple la comodità d'uso è eccellente la custodia è piccola e sta in tasca anche in quelle piccole se arriva una chiamata si estrae la cuffia cercando di non farla cadere magari in un tombino la si la si mette all'orecchio e questa è subito pronta togliere la cuffia dall'orecchio interrompe la riproduzione di quello che ci stava ascoltando o della telefonata con due tap si può avviare la riproduzione o fermarla per cambiare il volume si deve agire sul telefono al contrario di tutte le altre che hanno il piccolo controller sul sulla cuffia o sul filo la qualità audio per il palato è perfetta per la musica le power beats e le altre non in ear sono notevolmente meglio queste cuffie cadono facilmente se ce l'avete nell'orecchio spenta e un attimo portare la mano all'orecchio e non trovarla più con la mascherina il rischio è ancora più elevato ultima nota se non si usano per molti giorni la scatoletta comunque si scarica quindi ogni tanto mettete la sottocarica come le power beats si collegano facilmente a ogni dispositivo con il vostro account apple ma solo uno per volta e il cambio del dispositivo è fatto a mano pare che con le prossime versioni di ios sia un pochino meglio bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata grazie per avermi ascoltato ciao